Il messaggio dell'ex bonus di avanti un altro per Luca Onestini, gelosia di Ivana dopo l'avvicinamento, agli sgoccioli della due gradi edizione del grande fratello Bip, arrivano gli ultimi colpi di scena? Uno fra questi è l'aereo con tanto di un vero e proprio messaggio d'amore, che Paola Caruso, l'ex bonus di avanti un altro, ha recapitato a Luca Onestini durante il primo pomeriggio di oggi, un grado dicembre. Mentre i riprimasti in casa verso il gran finale ossia, Ivana Mrazova, Daniele Bossari, Aida Iespica, Raffaello Tolone, Giulia Delellis e lo stesso Onestini, si rilassano dopo il pranzo, improvvisamente arriva il messaggio, che non ti... Aspetti, del XNAP 2 17, 12, 01, 19-28-51-263 PNG, l'indito è chiaramente riferito alle due trasmissioni condotte da Barbara D'Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Lide, dove spesso ci si è occupati del reality show di Canale 5, senza tralasciare anche la fine della storia tra Onestini e Soleil Sorge, Luca, sorpreso e spaesato, ringrazia Paolona, chiamata così da Onestini. C'è chi prende il messaggio ridendo sotto i baffi come Giulia Delellis, non perdendo l'occasione di fare il suo commento a livello trash, però c'è un bel seno e... Ivana, invece, non capisce neanche di chi si sta parlando e prova a chiedere spiegazioni, sarà gelosia dopo l'avvicinamento tra i due? C'è chi prende il messaggio?